Dov'è la verità? In questa società, se cerco la verità, tu le voce mi guiderà. Forza è una voce che proviene dall'alto, con tono caldo caldo e bravoso d'amore, ma non è la stessa voce che costruizza una bimba e girocchiarsi davanti al Signore. E dopo averne fatto agnello sacriticale, violando le sue carri, la costrissa a pregare, sicuro che il perdono del suo Signore l'avrebbe risparmiato dal giudizio finale. Ma tu ci credi, tu ci credi, tu ci credi, tu ci credi o no? Ma tu ci credi, tu ci credi, tu ci credi, tu ci credi o no? Ma tu ci credi, tu ci credi, tu ci credi o no? Forza è la voce corta di un professore, che tipo ti ripeti, pasticca ad ogni malone. Stessa cosa può sostare per passare a dire, di portare a guadagnare ma mai guarire. Ma forza è una voce con un tono più stretto, che si annegatti lo scrive io dicendo. Lavoro è fatto, tu sei stato perfetto, però te le sorti va a levare dal cazzo. Ma tu ci credi, tu ci credi, tu ci credi, tu ci credi o no? Ma tu ci credi, tu ci credi, tu ci credi o no? Ma tu ci credi, tu ci credi, tu ci credi, tu ci credi o no? Yonanà, 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 yonanà. Grazie a tutti Grazie a tutti